E' uno degli appuntamenti più attesi da tutti i bambini di Arezzo, Pompieropoli. Non solo vedere da vicino all'opera i vigili del fuoco, ma anche imparare da loro i trucchi di un mestiere fondamentale per tutti noi. Questa è la 17esima edizione che noi facciamo della Pompieropoli, ci riempie di orgoglio, la cittadinanza risponde alla grande e noi ne siamo orgogliosi e ci piace tanto. E' un percorso ludico che serve più che mai a non formare ma a fratellizzare con quello che è la vita del vigile del fuoco. E' un gioco che sviluppato nel mondo normale, nel mondo civile, fa sì che i bambini imparino quelle piccole tecniche di comportamento in caso di eventi, pericoli e quant'altro, soltanto con il gioco. L'associazione di Arezzo però insieme a qualcuno che ha contribuito liberamente con dei piccoli contributi alla manifestazione tipo UbiBanca, la Todis, la ConfCommercio e l'associazione Macellai e Panificatori che questo pomeriggio offrono la merenda tradizionale per i bambini.